ci sono vari tipi di cringing quello che abbiamo visto prima era il simple cringing una prima variazione fra i tipi di cringing che si possono adottare è quella dei punti che si possono considerare pensiamo al caso fortunato in cui noi abbiamo tantissimi punti di misura e noi siamo interessati per esempio ad un singolo valore come sempre in un determinato punto invece di considerare tutti i punti possiamo considerare solo l'insieme dei punti più vicini pensando che l'effetto dei punti più lontani è in qualche modo non importante sulla determinazione della misura in questo caso siamo di fronte a un cringing locale viceversa dall'altra parte avevamo un cringing globale in cui consideravamo tutti i punti bisogna pensare che le relazioni fra i punti crescono molto velocemente numero di punti supponiamo di considerare questo punto noi abbiamo n meno 1 legami con gli altri punti e così per ogni altro punto quindi il numero di operazioni che si devono fare per interpolare il cringing se si considerano tanti dati di misura può essere molto elevato il tempo di calcolo altrettanto questa la considerazione pratica del dell'uso di un di un cringing locale invece che un cringing globale un'altra un'altra serie di cringing per esempio è quella in cui consideriamo per esempio una montagna come varia la temperatura con la quota noi sappiamo che la temperatura con la quota tende a diminuire diminuisce con un gradente adiabatico che può essere secco o umido o viceversa varia tra 5 potrebbe variare per esempio da 5 gradi a 9.8 circa 10 gradi e in questo caso non ha molto senso se noi se i nostri punti sono posti a quote differenti fare un cringing un'interpolazione semplice delle misure di temperatura nei punti diversi vale piuttosto la pena di sottrarre un andamento generale o generale ma ma magari anche locale di temperatura per esempio una una curva di questo tipo quindi un piano nelle nelle temperature sottrarre quindi da t1 meno delta t che è dovuta al gradiente al gradiente di temperatura e poi considerare questa nuova variabile t cappello che è la differenza del che è la differenza tra le due temperature e quindi fare il cringing solo su t cappello cioè la temperatura senza il trend e quindi noi facciamo andiamo a fare il cringing su questa su questo elemento e poi aggiungiamo il valore che abbiamo ottenuto i valori che abbiamo ottenuto al trend che avevamo sovraimposto si parla allora di the trend of cringing di cringing con on drift o di varie cose di questo tipo ma l'essenziale è questo questi saranno i vari tipi di cringing che noi vedremo poi anche nelle esercitazioni ci sono naturalmente ulteriori valiazioni su questo tema per esempio consideriamo un fiume e supponiamo di avere alcune misure sul fiume per esempio in queste posizioni è interessante pensare che in questo caso i dati che noi andiamo a misurare non sono legati alla distanza fra i punti bensì alle relazioni reciproche che questi punti hanno lungo lungo il fiume per esempio questo punto potrà essere correlato con quello a valle e così questo e ma questi due punti uno e due potrebbero non avere nessuna relazione tra di loro dal punto di vista della quantità che stiamo osservando e allora esistono anche dei tipi di cringing che tengono conto di queste interazioni di tipo topologico ma noi non ci occuperemo di queste quantità ti 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 Grazie.